Il carretto passava e quell'uomo gridava, gelati. Al ventuno del mese i nostri soldi erano già finiti, io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti, il più bello era nero, coi fiori non ancora passiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri, io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli, poi sconfitto tornavo a giocare con la mente i suoi tarli, e la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli. Che anno è, che giorno è, questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più e ho nell'anima. In fondo all'anima c'è l'immensi e immenso amore, e poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline e fraterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è. I giardini di marzo si vestono di nuovi colori, e le giovani donne in quel mese vivono nuovi amori. Camminavi al mio fianco ad un tratto di cesti, tu muori, se mi aiuti son certa che io ne verrò fuori. Ma non una parola chiarì i miei pensieri, continuai a camminare lasciandoti attrice di ieri. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più, e ho nell'anima. In fondo all'anima c'è l'immensi e immenso amore, e poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline e braterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è. Per la prima volta. E poi, come vi? Il coraggio di vivere quello che mi ha detto. E poi, come vi? E poi, come vi? Grazie a tutti.